Benvenuti in questo nuovo video di ClaudioMasci.com In questo video vedremo come far cambiare colore alle celle in base al loro contenuto Andiamo ad inserire dei contenuti Mario Rossi Data di nascita, mettiamo la data di oggi 21.12.2018 Luogo di nascita Roma Copiamo il contenuto In diverse celle Al momento non è registrato quindi impostiamo su no Perfetto Adesso selezioniamo le celle che desideriamo colorare E andiamo a selezionare formattazione condizionale e clicchiamo su nuova regola Dall'elenco delle regole selezioniamo l'ultima Utilizza una formula per determinare le celle da formattare Qui dobbiamo andare a selezionare un valore che deve essere Che sarà Che avrà un risultato veritiero Che quindi ci andrà a formattare la nostra cella Quindi come valore impostiamo uguale Selezioniamo la cella E Uguale Tra virgolette Inseriamo sì Quindi in questo caso stiamo dicendo ad Excel che se Nella cella E2 Il valore sarà sì Andremo ad impostare un determinato formato Quindi scegliamo come carattere Un colore bianco Bianco Grassetto Riempimento impostiamolo su verde E clicchiamo su ok Confermiamo Ricreiamo una nuova regola Sempre utilizzando una formula per determinare le celle da formattare In questo caso Ancora uguale Sempre la stessa cella Che sia uguale a no Come formato Colore dello sfondo Nessun colore Carattere Normale E colore automatico Ok Ok Andiamo a controllare nella nostra formattazione condizionale Gestisci regole Possiamo vedere che abbiamo due regole Una per il sì E una per il no Clicchiamo su ok A questo punto facciamo una prova Nel campo registrato andiamo ad inserire sì E vediamo che la nostra riga diventa verde Possiamo fare questo per tutte le righe Quindi per tutti L'elenco Ovunque ne abbiamo bisogno Quindi andiamo ad inserire una regola condizionale Che ci dirà se quella riga Corrisponde a sì La colora di un determinato colore Quindi ad esempio se volessimo fare la stessa cosa per la seconda riga La selezioniamo tutta Andiamo su formattazione condizionale Nuova regola Utilizza una formula Andiamo ad inserire uguale E selezioniamo la cella che ci interessa analizzare il contenuto Di cui ci interessa analizzare il contenuto Che sia uguale a Ad esempio in questo caso io voglio che sia registrato Sempre tra virgolette Riempimento verde Carattere grassetto e bianco Ok Ok Quindi in questo caso se io vado ad inserire sì Non succederà niente Se andrò ad inserire registrato Avremo la cella in verde Grazie per aver seguito questo video E ci vediamo al prossimo Grazie per aver guardato il video